venerdì 30 agosto Marella Dream diritto di prua in allineamento con la punta del capo il traffico del corpo di sorrento è intenso già a quest'ora del mattino la giornata è nuvolosa tante tante barche in attesa di far sbarcare i circa 800 crocieristi da questa nave il traffico per capri è già partito le imbarcazioni con 10 12 persone stanno già dirigendo